Parte da Catania, maxifrode da 29 milioni di euro, sequestri anche a Pesaro. Ancora ministri a Pesaro, Ciriani oggi in visita alla coalizione di centrodestra. Incidente sul lavoro a Petriano, domani a Morciola il funerale di Simone Mezzolani. Nuovo supermercato a Pantano, si allarga il fronte del No. Sabato, Pesaro ospita le finali nazionali di Touch Rugby. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro appuntamento informativo con il telegiornale Rossini News. Notiziario di giovedì 30 maggio che apriamo con la cronaca e lo facciamo con un'operazione della Guardia di Finanza che parte da Catania e che dall'alba di questa mattina ha portato 140 finanzieri in tutta Italia a disporre misure cautelare nei confronti di 16 persone indagate. Sequestri e indagini che si sono effettuate soprattutto in Sicilia ma anche a Milano, Brescia, Roma eppure nella nostra Pesaro. Gli indagati avrebbero realizzato un raffinato sistema di frode fiscali su scala nazionale con regia unica su Catania abusando dei vantaggi normativi in tema di distacco di personale previsti per i contratti di rete tra imprese. A Pesaro sono stati sequestrati beni, quote societari e disponibilità finanziare. Il valore complessivo dei sequestri, considerando le varie città coinvolte, ammonta a 29 milioni di euro. I reati a vario titolo contestati sono associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione dei redditi, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di retenute previdenziali d'IVA e riciclaggio di denaro di origine illecita. Passiamo alla politica. Dopo la visita di ieri del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, presente alla Trattoria Sociale Utopia del Parco Miralfiore, oggi è stata la volta a Pesaro del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani, è arrivato nelle Marche ed ha fatto tappa a Pesaro, presso la sede di Marco Lanzi, candidato sindaco del centro-destra per esprimere il suo sostegno alla coalizione in anvista della tornata politica amministrativa dell'8 e del 9 giugno. Sì, noi siamo qui a sostenere il nostro candidato Marco Lanzi, la coalizione del centro-destra, a riaffermare la possibilità di vincere anche qui, di radicare il centro-destra anche a peso. Qualcuno dice che è difficile, ma difficile è il nostro mestiere. Dicevano che era impossibile che Fratelli Italia diventasse il primo partito, ce l'abbiamo fatto. Era impossibile che il centro-destra vincesse in Italia e abbiamo vinto. Impossibile che una donna diventasse Presidente del Consiglio e Giorgia Meloni la prima donna di destra Presidente del Consiglio. Quindi siamo abituati alle sfide difficili. È una sfida difficile ma non impossibile. Abbiamo già vinto in altre occasioni, la qualità delle nostre liste, la qualità del nostro candidato ci fanno ben sperare. Spazio anche per il tema europeo, visto che le elezioni amministrative avverranno in contemporanea a quelle europee e per le quali il ministro parla di uno scenario con un'Italia che guarda al futuro e dal volto più internazionale. Siamo naturalmente impegnati a dare forza credibilità all'immagine internazionale dell'Italia e credo che Giorgia Meloni in questo momento sia una rock star della politica italiana, riconosciuto a livello mondiale. Questo naturalmente fa molto soffrire la sinistra che aveva immaginato per l'Italia un futuro di immarginazione internazionale. È avvenuto esattamente il contrario, come sta avvenendo esattamente il contrario in tema di economia, di società, di crescita economica, di posti di lavoro. Noi rispondiamo con i fatti, speriamo di poterci confrontare con la sinistra in Parlamento e fuori dal Parlamento sulle questioni che riguardano l'Italia, il futuro, le elezioni europee e non sul passato. Presente assieme al ministro anche il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, che coglie l'occasione per commentare la proposta di Gambini, candidato sindaco della centrodestra a Urbino, che ha proposto di creare una nuova provincia, ovvero la provincia di Urbino. Beh, guardi, innanzitutto bisognerebbe ridare alle province il ruolo che avevano prima, perché la mancanza delle province è stata ed è un vuoto che va colmato per restituire un'area vasta di programmazione indispensabile su alcuni temi. Poi vedremo più avanti quello che dovrà essere il tema che ha lanciato il candidato Gambini. Mi sento di dire che sicuramente se in quel territorio un numero importante di comuni hanno deciso di abbandonare la regione Marche per passare in Emilia Romagna, evidentemente un tema di considerazione c'era e anche un tema di aggregazione intorno ad alcune questioni. Quindi credo che la proposta di Gambini si riferisse in maniera specita a questo tipo di deficit che c'è stato. Noi intanto ci occupiamo di curarne le risposte attuali e immediate e poi in futuro vedremo quello che saranno gli scenari, aspettando il ritorno delle vecchie province. Si tornerà domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Morciola di Vallefoglia il funerale di Simone Mezzolani, 33enne operaio dell'azienda Fab di Gallo di Petriano, morto schiacciato da un rullo trasportatore di un macchinario industriale nella serata di lunedì. Proseguono intanto le indagini di spettorato del lavoro e dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, così come proseguono le battaglie sindacali dopo l'ennesima morte bianca. Oggi ad Ancona c'è stata una riunione dei 150 delegati della Cisle Marche per un momento di riflessione sui tre infortuni mortali in regione in questo 2024 che si accodano ai 28 dello scorso anno. E torniamo su Pesaro dove fa discutere il progetto di realizzazione di un nuovo supermercato in una zona cittadina già satura di punti vendita per quello che riguarda la grande distribuzione. Nel quartiere pesarese di Pantano prende corpo il progetto di riconversione di un'area in progressivo degrado già prevista a destinazione commerciale artigianale in un nuovo supermercato della catena Eurospin. Quello che sulla carta dovrebbe nascere fra via Trometta, via Pantano e via Carrara. Già dovrebbe perché il condizionale sta prendendo piede sull'onda di proteste di residenti, associazioni di categoria e anche degli stessi candidati sindaci che si schierano contro altra cementificazione. Sul tema è intervenuto anche il direttore di Commercio Marche Nord, Amerigo Varotti. È comprensibile l'iniziativa del privato che vuole edificare o quantomeno ristrutturare un fabbricato già a destinazione commerciale e quindi che vuole fare del business, questo è comprensibile. È altrettanto comprensibile però sia la protesta dei residenti, la protesta delle associazioni di categoria e anche la volontà al momento espressa da parte dei candidati sindaco di Pesaro di non consentire la realizzazione del nuovo supermercato. C'è una follia da questo punto di vista, negli ultimi dieci anni Pesaro è stata accerchiata dalla grande distribuzione, grandi magazzini, cappannoni, è stato costruito invece che sul costruito è stato cementificato tanti spazi verdi della città e questo ha comportato la desertificazione di molti quartieri, lo stesso centro storico, la chiusura di tante attività commerciali, un appesantimento del traffico e poi è incomprensibile la realizzazione di un nuovo supermercato in quella zona che è già piena di supermercati, ce ne sono circa 7-8, adesso non ricordo bene, nel giro di un chilometro, quindi dal punto di vista commerciale è un assurdo, dal punto di vista della vivibilità del quartiere è penalizzante per i residenti e con un appesantimento del traffico che non è giustificato. La proliferazione della grande distribuzione, dei grandi magazzini nella città di Pesaro ha poi comportato anche il depauperamento e la desertificazione delle attività commerciali nei borghi vicini, nei paesi vicini, creando un forte polo di attrazione che ha comportato in molti casi proprio la sparizione dell'attività commerciale nei paesi. Allora questa follia urbanistica va fermata. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Dopo l'attacco hacker al cube delle Marche di una decina di giorni fa proseguono altri disagi nei sistemi di prenotazione sanitaria del nostro territorio. È un maggio senza pace per i servizi informatici e la loro connessione alle prestazioni sanitarie. Dopo l'attacco hacker che ha mandato fuori uso il cube con strascichi ancora non del tutto risolti, le difficoltà si sono allargate anche alla nagrafe pesaresi di via 11 febbraio, come spiega ai nostri microfoni Mauro Mariotti, cittadino che segnala il disservizio. Io come penso tanti altri ho il medico di base che va in pensione dovevo andare in un altro e praticamente sono tre giorni che cerco di farlo inutilmente. Sono andato per due giorni, ho visto delle grandi file e quindi sono andato via. Stamattina sono tornato un quarto d'ora prima dell'apertura e quando praticamente era arrivato il mio turno è uscita fuori una signora, una povera impiegata che ha detto che non funziona il collegamento internet che già ieri era successo per un'ora e mezzo, erano stati fermi. Poi ho mandato una protesta perché c'è una responsabilità penso del fornitore internet, c'è una responsabilità dell'ufficio tecnico, dell'azienda sanitaria e dico se non altro potevano mettere un cartello per dire che avevano questi problemi in corso che magari uno quando se ne accorge decide insomma se aspettare o tornare un'altra volta. L'URP ha risposto alla protesta del signor Mariotti riferendo come si sia verificato una problematica importante che ha interessato linee telefoniche e informatiche del territorio legate al distretto di Pesaro non dipendente dall'azienda. I gestori esterni Fastweb sono intervenuti coadiuvati dai tecnici dell'azienda al fine di risolvere la problematica che sta creando disagio a pazienti e agli stessi operatori sanitari e amministrativi. Azienda che si scusa assicurando il massimo impegno per il ripristino più celere possibile del sistema. Con le prossime immagini ci spostiamo nel territorio di Tavuglia dove è stata inaugurata la piazza Belvedere di Babucce. L'intervento è stato realizzato da Marche Multiservizi e rientra nell'ambito delle opere compensative relative alla discarica Casprete. Il progetto curato dallo studio Gaudenzi Ferretti Partner ha previsto la realizzazione di un nuovo spazio pubblico rialzato rispetto al parcheggio del campo sportivo. La nuova piazza si estende su una superficie di oltre 700 metri quadrati a tre accessi pedonali distinti ed è illuminata con luci a led e risulta un vero e proprio Belvedere sul passaggio collinare circostante. L'ingresso della piazza è segnato anche da un grande arco in acciaio corte ed attrezzato con faretti illuminanti. L'opera ha consentito di preservare i 30 posti auto ad uso pubblico accessibili da strada San Germano. E parliamo di culture e spettacoli perché dal 27 giugno al 14 luglio si rinnova a Pesero l'atteso appuntamento con Circo e il Grito per la sesta edizione di Stupor Circus, festival internazionale di circo contemporaneo promosso dal comune con Amat. Nei 36 appuntamenti per 11 spettacoli in programma, Stupor Circus offrirà l'occasione a spettatori di tutte le età di conoscere un aspetto inedito di quest'arte così affascinante nell'abituale location del Parco Miralfiore con il suggestivo chapitò allestito per l'occasione e negli spazi della arena. Arte al servizio dell'inclusione e della lotta contro ogni forma di violenza. Va in questo senso il concorso scolastico organizzato dalla Onlus, piattaforma solidale, giunto alla terza edizione. Sono stati premiati nella sede della provincia di Pesero Urbino i vincitori della terza edizione del concorso d'arte figurativa Un mondo solidale e inclusivo contro ogni forma di violenza. Il concorso, promosso dalla Onlus, piattaforma solidale, ha visto produrre sei incontri nelle scuole, spociati poi nel presentare ben 84 opere sul tema della solidarietà e dell'inclusione contro ogni forma di violenza. E li abbiamo voluti stimolare facendoli riflettere soprattutto su quello, qual è la causa principale che porta alla violenza. E a nostro avviso la causa principale che porta alla violenza è la mancanza di dialogo, di confronto. Non a caso, quando parliamo di varie forme di violenza, la violenza contro la natura, l'uomo che sta violentando questo pianeta, perché manca il dialogo fra l'uomo, l'essere umano è la natura, nelle scuole. Quando manca il dialogo arriva il bullismo. E quindi è fondamentale andare in mezzo agli studenti, insieme ai professori, agli insegnanti, ai dirigenti, parlare di questo. Ed abbiamo, a mio avviso, quest'anno ottenuto dei risultati estremamente importanti. Abbiamo scelto di fare qualsiasi tipo di violenza che viene fatta su una donna, anche perché si sente spesso, purtroppo, anche ultimamente, soprattutto, di tantissimi femminicidi. E quindi abbiamo deciso di rappresentare tutto ciò che una donna deve subire, magari quotidianamente, purtroppo, e che si dovrebbe eliminare per l'appunto. Ho disegnato una chiave, perché secondo me la chiave è appunto il modo per aprire una porta, questa porta immaginaria o anche vera, per appunto arrivare a un futuro. E quindi anche se la chiave, ovvero il passato, può essere insanguinata, può essere rovinata, comunque questa chiave funziona e questa chiave serve per appunto raggiungere questa porta e aprire un futuro. A partecipare le classi di Pesaro di Bramante Genga, Liceo Artistico Mengaroni, Istituto Agrario Cecchi, Scuola del Libro di Urbino, Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano, Liceo Artistico Preziotti Licini di Porto San Giorgio e Fermo. Proprio una classe terza di quest'ultimo liceo si è classificata al primo posto utilizzando la scrittura specchio di Leonardo da Vinci, con lettere disposti in ordine rovesciato, in modo che la frase ad effetto potesse essere letta correttamente soltanto allo specchio. Abbiamo portato dei concetti, delle riflessioni nuove, si parla sempre di violenza sulle donne, se ne parla tanto e in questo caso parlare dell'amore ha portato a delle riflessioni nuove, infatti proprio l'opera d'arte principale è stata premiata perché parla di felicità, parla di qualcosa di nuovo, la violenza può essere contrastata soltanto con l'amore, dobbiamo iniziare a creare dei nuovi significati per portare una comunità in un luogo di serenità in cui tutti possiamo essere solidari. Sta per concludersi la rassegna di Torno Girando che dallo scorso settembre ha portato a intraprendere un inedito viaggio culturale itinerante per la provincia in un progetto di ordine degli ingegneri ed ente Olivieri. Martedì l'ultimo interessante appuntamento teatrale ad ingresso gratuito che vi presentiamo in questo servizio. Martedì 5 giugno sul palco del Teatro Rossini arriva la rock star della fisica Gabriella Grecia, con lo spettacolo teatrale La Donna della Bomba Atomica. Si tratta dell'appuntamento di chiusura della rassegna di Torno Girando, organizzata dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ente Olivieri, con la collaborazione di Pindore Venti per questo specifico ultimo spettacolo. La Donna della Bomba Atomica narra la vicenda di Leona Woods, fisica dimenticata della storia, che ebbe un ruolo fondamentale nella realizzazione della bomba atomica. Fu infatti scelta da Enrico Fermi per il progetto Manhattan, lavorò al fianco di Oppenheimer in un contesto scientifico da sempre appannaggio del mondo maschile. Abbiamo voluto portare a Pesaro al Teatro Rossini Gabriella Greson, una vecchia amica di Pindaro. Gabriella infatti si è occupata di tante cose durante la sua carriera, di sport in quanto era scrittrice, giornalista per la Gazzetta dello Sport e di Sport Week. Poi ha collaborato a realizzare delle biografie di anche grandi attori, ma la sua passione è sempre rimasta quella della fisica. Quindi ha avuto il desiderio, poi nel corso della sua carriera, di divulgare la fisica e di renderla accessibile a tutti, cercando di spiegare le vicende di tanti fisici in maniera pop, ma allo stesso tempo conservando quel rigore di linguaggio e di competenza che le deriva dall'essere appunto laureata in fisica, ad essere le stesse una scienziata. Aspettando l'ultimo spettacolo ad ingresso gratuito, c'è soddisfazione per l'esito della prima edizione di Ditorno Girando. Abbiamo avuto un grande riscontro dal pubblico, da chi insomma siamo andati ad interessare nei diversi luoghi che abbiamo toccato all'interno della nostra provincia ed è stato un percorso che è iniziato a settembre dell'anno scorso e ci ha portato avanti per dieci appuntamenti, questo sarà il decimo appuntamento, per appunto fare conoscere e scoprire la ricchezza e la bellezza del nostro territorio. È stato un grande successo e quindi qui dico che sarà sicuramente non l'ultima occasione ma anzi la prima di una serie di altri eventi che stiamo programmando per gli anni prossimi. E concludiamo il nostro notiziario occupandoci di sport e di una disciplina ancora poco nota ai profani della palla ovale, parliamo del touch rugby, le cui finali nazionali si terranno questo sabato a Pesaro. Dopo le prime due edizioni tenutesi a Parma e Roma, sarà Pesaro ad ospitare le finali nazionali di touch rugby. La candidatura del Comitato federale marchigiano assieme all'organizzazione della Pesaro Rugby porterà sabato 1 giugno al Tecnobo Rugby Park di Muraglia 14 squadre da tutta Italia pronte a sfidarsi nella fase finale di questa sempre più diffusa declinazione della palla ovale che propone un rugby a 5 senza contatto e senza preclusioni di categoria, età o genere. Touch rugby in cui Pesaro è finora la massima espressione visto che ha vinto le prime due edizioni e che sabato si riproporrà con due squadre derivate dai kiwi giallorossi, gli scottadito e i tre amigos. La terza edizione è stata scelta la candidatura di Pesaro in virtù delle due edizioni precedenti che hanno portato alla vittoria della rugby Pesaro, anche della crescita del movimento rugbybistico marchigiano infatti oltre all'evento che ci sarà sabato questo evento nazionale, sabato 15 giugno a San Benedetto ci sarà un incontro internazionale di under 20 tra l'Italia e la Spagna prima che i ragazzi partino per i mondiali in Sudafrica. La candidatura è stata ben accolta per la qualità della programmazione e dell'organizzazione e ci tengo a dire che c'è stato anche un sostegno da parte del Comune di Pesaro inserendo la manifestazione di sabato nel planning degli eventi di Pesaro capitale italiana e della cultura. Il touch rugby è una variante in cui non c'è il contatto quindi appunto è aperto a tutti viene facilitato l'avanzamento perché la difesa sul tocco deve indietreggiare permettendo all'attacco di avanzare ogni tocco fino a un massimo di 6 quindi l'attacco ha 6 opportunità per fare una meta e praticamente ci sono appunto 5 in campo 7 in panchina massimo quindi un massimo di 12 giocatori per squadra con un campo che è la misura diciamo a metà di un campo normale e permette appunto che lo sport sia aperto a tutti sia a bambini di 14 anni che a old di 50 e passa anni. Una disciplina nuova rugby a 5 che cerca di senza il contatto che cerca di avvicinare gli appassionati a questo gioco del rugby e quindi di portarli anche sul campo indipendentemente dalle loro esperienze dalla loro età e dal genere di sesso. Si conclude qui il nostro spazio informativo di Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo però alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla nostra prima serata che alle 21.20 vede una nuova puntata di Amministrando si parte di tematiche sociali alle 21.20 con il confronto tra il candidato al Consiglio Comunale di Pesero Thomas Nobili per la lista civica Biancani Sindaco e un altro candidato al Consiglio Comunale ovvero Andrea Boccanera della lista civici Pesero per l'anzi Sindaco l'appuntamento come detto questa sera alle 21.20 e poi vi aspetto domani per la rassegna stampa delle venerdì buongiorno Rossini come sempre in diretta a partire dalle 7.20 andremo a vedere le principali notizie dei quotidiani locali nel consueto appuntamento del mattino si conclude invece qui l'informazione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi auguro un po' di